Ciao ragazzi, nuova posizione però sempre utilizzando la fotocamera anteriore del mio telefono e volevo dirvi che stavo leggendo su Tutto Mercato Web che Belotti, il Gallo, il grande Gallo Belotti avrebbe rinnovato con il Torino e avrebbe rinnovato anche con una clausola rescissoria di ben 95 milioni di euro usufruibile soltanto per l'estero. Ora, penso che vada un pochino di moda questa cosa di mettere clausole rescissore che era una cosa tipicamente spagnola, tra l'altro, che in Italia stiamo iniziando a mettere come per dire oh, io metto 95 milioni di euro così magari se vengono come è successo con Napoli con Higuain mi diranno pure, oh, c'è guadagnato il doppio, il triplo di quello che vale il giocatore, magari è fatto apposta perché così posso guadagnarci di più. Ora, bisognerebbe spiegare a questi presidenti che non funziona praticamente così perché se io adesso andassi da Urbano Cairo con ben 30-35 milioni di euro, mi chiamo Juventus, Milan, Inter Belotti me lo porto a casa. Comunque non credo che Cairo possa dire 35 milioni, no, che schifo, bleh, per Belotti che comunque è un giocatore fortissimo, sta segnando davvero tanto, se lo merita veramente, se merita tutto il bene del mondo di questo mondo, perché secondo me sta segnando ogni volta che gli danno il pallone e la mette dentro quindi è un fenomeno pazzesco, però ovviamente non può valere 95 milioni di euro per me, manco Higuain valeva 95 milioni di euro figuriamoci adesso Belotti che comunque è ancora giovane, ancora troppo presto per poter valere tutti quei soldi per cui Cairo è inutile che vai a mettere 95 milioni sperando che qualcuno venga lì e te lo prenda a quel costo perché in realtà, secondo me, si fanno due o tre risate guardando questa cifra però il problema qual è? È che si dice che Rubano Cairo avrebbe rifiutato 35 milioni di euro quest'estate dall'Atletico Madrid, mi pare, proprio per Belotti secondo me non se ne è fatto più nulla, mi sembra un po' strano che possa rifiutare 35 milioni vabbè che volesse andare un po' al rialzo, però dai 35 milioni di euro direi che è una cifra ottima per un campione, sebbene sia molto giovane, comunque un giocatore che segna tanto però vabbè non è un campione affermato, ecco è ancora giovane, ancora inesperto internazionalmente internazionalmente parla... vabbè non so parlare neanche io, però in maniera internazionale è ancora molto inesperto è ancora molto acerbo, per cui penso che come cifra 35-40 milioni siano una cifra giustissima per acquistarsi un giocatore così comunque poco esperto in campo internazionale penso che sia una cifra giusta, i 95 milioni sono messi apposta per, secondo me, sono fatti apposta io credo che dobbiamo evitare certe cose, non dobbiamo prendere spunto dalla Spagna per ste stronzate ma dovremmo prendere spunto, magari spunto dalla Germania, magari dall'Inghilterra per quanto riguarda i diritti televisivi, quelle sono cose da prendere spunto in cui tutte le squadre prendono praticamente gli stessi soldi che poi, vabbè, chi è più potente economicamente e chi meno però comunque in Inghilterra, guardiamo anche l'ultima in classifica si riesce a prendere giocatori spendendo tanto invece ovviamente Pescare e Crotone da noi invece sono costretti ad andare a prendere in presto i giocatori perché non sono economicamente in grado di acquistare giocatori di importanza internazionale questo è sicuramente un danno per noi rispetto a sta cosa dei 95 milioni non andiamo a prendere ste clausole e rescissorie che servono soltanto per spararla lunga è come se io volessi dire vendo il mio telefono 3310 a 1000 euro chi lo vuole? Cioè, è ovvio che devo trovare soltanto un pazzo che mi dica vabbè, ho 1000 euro da buttare dammi il 3310 perché ho voglia di... anche se il 3310 secondo me è un telefono che mi varrebbe pure 1000 euro a parte tutto, però vabbè ho fatto un esempio un po' campato per aria visto che il 3310 è un signor telefonone se pensiamo a quello che faceva e quindi, a parte tutto voi cosa ne pensate a riguardo a ste clausole e rescissorie che servono? cioè, perché le dobbiamo mettere? secondo voi, belotti, gli vale davvero tutti questi soldi? ma per adesso secondo me, no è ancora presto, però sicuramente è forte ragazzi è veramente forte commentate, mi raccomando, eh ciao da Papyrus